salve a tutti benvenuti al nostro canale di willys e sluffate ok oggi andremo a presentare uno slime l'han fatto in tanti ma a questo punto dobbiamo farlo anche noi andremo a fare un bellissimo slime e rimanete con noi e andremo a preparare uno slime insieme e vedremo tutti gli ingredienti certo adesso andremo a miscelare e a preparare tutti questi ingredienti ingredienti bravissimo sluffate andremo a presentarli uno per uno perché giustamente bisogna che abbiamo tutte le cose che ci servono allora partiamo dalla base una spatola per miscelare e mescolare una bowl una ciotola trasparente meglio che potete trovare tranquillamente dei migliori rivenditori come abbiamo fatto poi anche noi non possiamo dire il nome per giustamente per in questione di privacy di merchandising e questo è lo slime questo è lo slime più che lo slime lo slime verrà dopo spuffate questa qui è la colla abbiamo una colla glitterata argentata una colla vinilica liquido per lenti e di carbonato quello che avete un cucchiaio per il nostro bicarbonato come potete vedere per lo slime e a questo punto gli ingredienti ci sono tutti potremmo andare a cominciare la nostra opera ok facciamo un po di spazio così si vede cosa facciamo dentro alla ciotola spostiamo dopo tutte le cose anzi le portiamo tutte di quale portiamo e andiamo a a versare il nostro slime è stretto troppo spuffate ti aiuto ok ecco qua andiamo a aprire il nostro slime lo mettiamo al contrario non ce n'è più tantissimo perché l'abbiamo già fatti degli altri per fare gli esperimenti ma sta scendendo piano piano spuffate lo mettiamo nel centro ecco 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 aiuto anch'io così facciamo un po prima aspetta 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 perché è rimasto un po sul fondo è rimasto per farlo scendere un po meglio andremo a mettere un po di liquido per lenti andremo a chiudere il nostro liquido per lenti e a colla chiuderemo la nostra colla la vediamo se ora scende meglio non ne ha voglia di scendere tantissimo non ne ha voglia di scendere tantissimo ci sta creando un po di difficoltà perché non avevamo tantissimo slime a disposizione tantissimo colla vinilica andremo cioè colla vinilica andremo a mettere il bicarbonato poi togliamo il cucchiainetto ok e togliamo il tappo aiuto scusate ok prendiamo la nostra nuvetta senza strapparlo prendigli un po scusate il giusto che basta perché basta così ne abbiamo preso appena una puntina perché il bicarbonato insieme al liquido dell'enti funziona da attivatore quindi ne va messa la quantità giusta ne va messa adesso dobbiamo mettere il liquido per lenti se non dovesse bastare nel corso dell'impasto dell'ammalgamazione prima di tutto chiudiamo il bicarbonato per non fare danni e lo affettiamo via se non dovesse bastare come dicevo andremo ad aggiungerne altro nel corso di più scusate di più di più di più di più ecco la sconfattina non troppo troppo si indurisce subito e cerchiamo di capire come adesso mescolo funziona il tutto devi mescolare pelergicamente scusate ecco che sta già reagendo come potete vedere si è già incollato attaccato addensato adesso a questo punto spuffate lo stacchi della paletta stacca il olor pure della paletta tira 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 anche il resto tira anche il resto spuffate ok recupera quello che c'è attaccato lì ok a questo punto abbiamo fatto la vostra magia recupera quello che è rimasto sul fondo spuffete rimettilo nella ciotola no no mettilo nella ciotola lo slime mettilo nella ciotola Mi si sta incollando tutto, mi si è incollata le mani, come vedete mi si è incollata le mani. Le mani, allora serve un altro po' di bicarbonato. Mettemi un po' il liquido per denti qua, così non si attacca. No, non è quello. Sì, ma così non si attacca più. Mettiamo solo, provoca te l'acqua. Poi me lo metti nei mani, eh? Sì. Aiuto, 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 aiuto. Sono diventato un mostro! Sono diventato un mostro! Prima si deve un po' mescolare con le mani, se no non si forma più. Ti prego metti il melo. Finisce di impastare? Spruffate. Tieni anche questo pezzo. Ok. Impasta, impasta, scusate. Impasta. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Amico. 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 Come puoi far ben vedere alla nostra telecamera? Avvicinati un po' all'obiettivo. Come potete ben vedere, abbiamo creato il nostro slime. Fallo ben vedere, spruffate. Ecco qua. Il nostro slime glitterato e argentato. Fallo vedere meglio. Lascia, spruffate. Salve a tutti, benvenuti al nostro canale di Willy se... Spruffate. Ok. Oggi andremo a presentare uno slime. L'hanno fatto in tanti, ma a questo punto dobbiamo farlo anche noi. Andremo a fare un bellissimo slime. Rimanete con noi e andremo a preparare uno slime insieme. Vedremo tutti gli ingredienti. Certo!